oh giovani amici di facebook torniamo a parlare di viaggi lo facciamo in particolar modo parlando di valigie in questo caso un trolley lo facciamo grazie a pquadro che mi ha contattato e mi ha detto vuoi provare uno dei nostri nuovi trolley con tecnologia con neku al che io ho detto boh sì assolutamente sì lo voglio provare mandatemelo ed eccolo qua è un trolley da cabina quindi di quelli piccoli fondamentalmente che fa da bagaglio a mano ormai sono tutti quanti grandi più o meno uguali questo tipo di trolley è il modo migliore di viaggiare secondo me chiaramente cioè senza bagagli stiva solamente con il bagaglio a mano cioè con uno di questi trolley da cabina vengono chiamati così più uno vaino che solitamente è consentito anche nelle linee diciamo più economiche questo trolley però in particolare è davvero molto tecnico e ha delle tasche e degli scompartimenti proprio dedicati sia al controllo ai vari controlli di sicurezza per esempio per le cose più elettroniche come computer e tablet sia per altre robe interne che possono essere molto comodi e domandiamo a vedere quanta roba ci sta in questo trolley e come è costruito allora il trolley ha uno scompartimento principale qui è accedibile con una cerniera che è richiudibile con un lucchetto tsa che tra l'altro è fornito insieme al trolley con combinazione per cui lo trovate dentro al trolley molto figo il fatto che vi danno anche il lucchetto tsa a questo scompartimento principale che poi è diviso in due sezioni una diciamo un po più sottile chiusa da una rete che io ho utilizzato per metterci un paio di camicie ce ne stanno anche di più probabilmente invece qui a destra vedete quello proprio principale più fondo che ha che è coperto da da questo primo strato in cui io ho inserito dell'infradito ma anche in cui potete mettere quello che vi pare di solito mi porto dell'infradito dentro a un sacchetto di plastica molto comodo poi vedete si apre in questa maniera qui vedete il mio beauty che vi ho già mostrato nel primo speciale viaggi arriveranno nuovi accessori presto mi sono arrivato un sacco di cose nuove qui di solito metto l'intimo può essere possono essere calzini o slip dentro a un sacchetto di plastica molto semplicemente poi qui rimane un uno uno spazio diciamo tra virgolette standard in cui possono stare magliette felpe pantaloni qui ho fatto stare 4 5 magliette un felpone e un paio di jeans ci stanno anche altre cose volendo si possono invece spostare un po diciamo l'organizzazione del tutto e farci stare per esempio anche un paio di scarpe per esempio il beauty potete portarvelo dentro al allo zaino e qui ci stanno tranquillamente un paio di scarpe in più un'altra parte molto interessante di questo trolley oltre alla allo scompartimento principale che vi fatto vedere prima che è questa cerniera qui dietro è quest'altra cerniera qui frontale che segue tutto quanto il fronte all'interno troverete un porta computer barra porta tablet dedicato molto figo a questa tasca qui che serve per portare un tablet fino a 10 11 pollici e questa tasca principale invece che serve per trasportare un computer fino a 15 pollici senza problemi qui addirittura anche tre porta penne e quindi diciamo è molto comodo quando è comodo è comodo durante la fase di controlli di sicurezza perché i computer i tablet vanno tirati fuori dalle borse quindi molto comodo avere uno scompartimento qui facilmente accessibile dal quale è possibile tirare fuori questo ulteriore accessorio che viene fornito insieme al trolley che andrà quindi a contenere tutto quanto insomma le parti più elettroniche del vostro equipaggiamento in particolare appunto ripeto tablet e portatile non solo però all'interno ci stanno tante altre cose io per esempio le foto stare anche un grid senza problemi il famoso grid che vi ho mostrato più e più volte questo è molto comodo avercelo dentro al trolley perché una volta arrivati dentro all'albergo si tira fuori e nelmeno nel mio caso contiene tutte le cose che di solito lascio in camera quindi il caricatore delle batterie aggiuntive dei cavetti chromecast eccetera non solo però lo scompartimento stesso è diviso in diverse sezioni qui per esempio a una cerniera comunque una tasca che si allarga anche di molto la parte frontale invece di questa tasca interna vedete ci sono c'è un'altra tasca altrettanto capiente e più cui una tasca elasticizzata con bottone che ospita o un'area qui in cui si possono mettere cose minute oppure altre tre porta penne qui frontali quindi molto tecnico questo trolley veramente super figo nella parte posteriore in alto c'è chiaramente una maniglia retrattile vedete molto comoda che serve per trasportare il trolley quando magari se vogliono fare si devono fare le scale o robe simili è comodo perché rientra e quindi torna piatta rispetto al trolley e ci sono chiaramente anche qui dietro le aste in alluminio ricoperti in pelle addirittura la maniglia qui sopra questa qui tutto ricoperto in pelle molto fighetta c'è il tasto comodo si apre nella parte sinistra c'è questa fighetteria particolare che mi piace molto c'è semplicemente questo a scomparsa in metallo che riporta può riportare il vostro nome i vostri dati eccetera rientra dentro automaticamente come vedete nella parte inferiore ci sono chiaramente le due ruote questo trolley a due ruote non a quattro ruote più la protezione qui sul retro molto comoda per evitare danni alla struttura in tessuto vi consiglio in generale trolley a due ruote con con ruote di medie dimensioni magari con cuscinetti come sono queste di p quadro rispetto a quelli da quattro ruote che sono sì molto più comodi in aeroporto su pavimenti lisci mentre siete in coda perché ve lo spingete di fianco ma saranno altrettanto scomodi poi invece in giro per la città o dove volete andare perché solitamente questi trolley da quattro ruote hanno ruote più piccole invece queste più grandi sono molto più comode in giro e più silenziose anche altra cosa da tenere conto se non si vuole svegliare tutto il quartiere mentre si va al proprio albergo nella parte frontale ci sono due ulteriori taschi una superiore e un'inferiore questa superiore sembra fatta apposta proprio per ospitare il proprio documento di viaggio bar passaporto e averlo sempre a portata di mano nella parte inferiore come vi dicevo c'è un'altra tasca ulteriore più grande più spaziosa che può magari ospitare per esempio anche un tablet sempre durante i controlli di sicurezza è comodo averlo lì così si può tirare fuori al volo e rimettere dentro oppure altre cose più ingombranti questo trolley supporta anche connecu cos'è connecu è praticamente un sistema creato da quadro che consente la localizzazione dello zaino o della borsa o di qualunque roba in cui infiliate questo particolare tag bluetooth nel raggio di più o meno 100 metri dipende molto chiaramente dalla portata del bluetooth in ogni caso il suo vero utilizzo non è tanto localizzare la borsa se la si è persa ma accorgersi quando la si sta per perdere o quando qualcuno ve la sta portando via come funziona semplicemente metterete questa tag bluetooth dentro il suo comodo porta tag che vi viene dato insieme guardate che fighino che è e magari lo inserirete o attaccato fuori o anche dentro la borsa insomma basta metterlo attaccato la borsa in una qualche maniera a questo punto basta semplicemente aprire l'app di piquadro e vedrete che è possibile gestire diversi dispositivi ognuno chiaramente associato a un connecu diverso diverse borse intendevo in questo caso io ho associato il mio nuovo trolley che è questo qua appunto e vedete che mi dice che è molto vicino si può attivare o disattivare l'allarme sul telefono e si può far suonare sentite sta suonando in questo momento il connect che in teoria dovrebbe essere dentro al trolley si può interrompere chiaramente e si può anche localizzare vedere le ultime posizioni registrate la cosa figa chiaramente è che se l'allarme telefono è attivato se qualcuno porta via il vostro trolley o se vi allontanate magari magari scordandovelo al bar dell'albergo o del aeroporto o dove vi trovate cioè in poche parole se vi allontanate più di tot metri dal trolley o perché ve lo stanno scordando o perché ve lo stanno rubando a questo punto scatterà un allarme sul telefono che vi avvertirà della situazione è una cosa in più non è insomma una garanzia totale contro i furti ma mi sembra molto figa questa roba qua oltretutto il connect to è dato in regalo a tutti quelli che acquistano questo trolley ma anche altri prodotti di quadro sia in negozio che online la cosa figa è che vi arriverà poi via mail con la custodia personalizzata con le vostre iniziali da quello che ho capito per concludere questo trolley da cabina di p quadro è veramente molto figo realizzato totalmente in poliestere con degli inserti in pelle e in cotone pesa 2,5 kg quindi è relativamente leggero la portata è di 34 litri le dimensioni sono di 37,5 per 50,5 per una profondità di 22,5 centimetri è di tipo semirigido come vedete la colorazione che ho scelto io è camo verde ma ce ne sono anche altre sia in nero che in altri colori più classici il costo è molto alto come vi dicevo in apertura sta attorno ai 270 euro quindi valutate bene voi se tutti i secondo me grandi vantaggi che a questo trolley valgono questo prezzo che sono appunto materiali di ottima qualità costruzione al top in assoluto è un design molto tecnico molto comodo che può veramente fare la differenza in certe situazioni come il check in controllo sicurezza eccetera dove avrete a disposizione delle tasche degli scompartimenti proprio studiati appositamente per il viaggio che state affrontando se vi piacciono i miei video i miei incauto unboxing fate like fate share ci vediamo al prossimo video di incauto unboxing ciao ragazzi